Partiamo dal presupposto che io faccio questo video perché mi è capitato l'ennesimo caso umano Ovvero una di quelle persone che ti scrive dicendoti o anche ti chiamano E mi servirebbe un video o delle foto per il mio negozio, per il mio brand, quello che volete Però, ehi, roba semplice, niente di che, non star lì a diventare matto, non ti pago In cambio ti faccio della pubblicità All'inizio ci può stare e da tutta la pubblicità che dovevano farmi Sarei dovuto diventare la nuova Chiara Ferragni in versione maschile Non mi sto lamentando del fatto che mi facciano pubblicità, anzi ben venga Il problema è che la nostra materia prima è l'attrezzatura, le luci, la macchina, il computer Cioè non è che ce le regalce ne tirano indietro, li dobbiamo comprare, non so se lo sapevate Quindi della vostra pubblicità me ne sbatto un po' i coino Non che è apprezzata, per l'amor di Dio Spero che siate d'accordo con me, altrimenti fatemi un po' di pubblicità